Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo piccolo video su Robocraft ebbene si state vedendo un robot che ha sicuramente molto senso che però ho costruito così tanto per passare tempo e per augurare a tutti quanti buon natale a colpi di Railgun, quindi senza aggiungere molto altro voglio provare un po' ad augurare a tutti quanti un buon natale immaginate un po' questa scena, arrivo in questa mappa tutto convinto, tutti quanti con robot, si dai dobbiamo vincere poi spunta un sottospecie di cartello cingolato armato di Railgun che spara e che allo stesso tempo augura buon natale a tutti quindi sarà sicuramente una partita molto seria da parte mia ho preferito andare per deficit a cecchino o meno diciamo non voglio essere completamente inutile anche se sono totalmente inutile probabilmente un one shot ma alla fine il mio obiettivo in questo caso non è quello né di farvi vedere una costruzione ben fatta ma voglio solamente augurarvi a tutti quanti un buon natale e augurarlo anche a quelli là che sono qui vediamo quanto tempo ci devi mettere il natale già sta arrivando, non possiamo aspettare è già da un minuto no, ok ecco da natale già è il nome oh 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 lo vediamo un po' quante persone mi insulteranno, chiedo scusa veramente a tutti quelli che già stanno giocando qui e che probabilmente li condurrò a una disfatta sicura what the fuck e beh a natale siamo tutti più buoni, no? quindi spero che anche voi siete un po' più buoni con me merry christmas merry christmas oh 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 vediamo il primo bombardiere che mi vede mi sa che mi fa fare una brutta fine merry christmas eh eh ma la small bomber spotted ok vediamo quanto tempo ci metto prima che muoio oh attenzione merry christmas oh mamma mia ma quanto eh la lag è potente in quest'uomo ah donna non lo so eh mamma mia è imprendibile sta fermo e poi ok disrespect non ho capito nemmeno se l'ho distrutto io forse no però attenzione la merry christmas machine sta facendo il suo ruolo oh 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 shit no no merry christmas merry christmas non mi sparare mi sparo io al massimo boom 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 attenzione non ci credo sono riuscito a fare una chilo con la merry christmas machine hey merry christmas anche per te ah no ah 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 oh no vieni qua proprio sopra di me merry christmas boom boom si 2 kill per la merry christmas machine attenzione best sniper confirmed eh eh ah ti sto guardando appena si ricarica ah niente ah ah preso preso no no la lag no la lag perchè laghi ah oh 3 kill per la christmas machine ah ah non ci voglio credere oh mamma mia lo spirito natalizio è molto violente ve l'ho detto io a quanto pare oggi babba natale porta colpi di railgun oh mamma mia oh 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 mio dio perchè mi sei chiuso in basso oh 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 merry christmas e ho lisciato tutti i colpi no vabbè dai non ti voglio distruggere no non ti distruggo dai no disrespetto dai merry christmas oh ah non mi sparare disrespetto no ma che cos'è sta cosa sorry eh vai non ci credo oh mio dio merry christmas oh ok non credevo che mi sarei divertito così tanto utilizzando una cosa del genere oh mio dio ok ragazzi a parte gli scherzi veramente vi auguro a tutti quanti un buon natale da parte mia e spero che in generale non mi interessa se il video alla fine è piaciuto o meno alla fine so perfettamente di non aver fatto una cosa così speciale certo andare a vincere con un robot fatto così non è di certo da tutti però è una cosa fatta così perché onestamente parlando con voi non avevo un granché di idee da farsi quindi spero per voi che possiate passare un buon natale e passiate delle buone feste divertitevi fate attenzione a non farvi male e penso proprio che per il momento è tutto quindi ancora vi auguro buon natale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao